Hai per nuovo una skin da 1200... Eh? Wei wo? Bella ragazzi io sono Martex Bentornati su un nuovo video di Fortnite Ragazzi prima dello shop voglio mostrarvi Qualcosina, mi sto dirigendo a sponde Del scaccheggio perché Diciamo che è cambiata qualcosa, inoltre Nell'ultimo sito di scavi, non lo so Sembrano essere riapparse le rocce che abbiamo Spaccato quasi una settimana fa Non so ormai quante volte si stiano Buggando queste pietre, si devo dire che Sono decisamente buggate dato che Va a contare solamente i miei danni Chissà quanto tempo impiegherebbe Una sola persona a distruggere tutte queste Pietre ragazzi, comunque non mi meraviglio Più di tanto perché si erano già buggate Una prima volta a mercoledì scorso Però in quel caso non stava contando solamente I miei danni, bensì quelli di tutti i player Anche se ogni singola pietra Anziché avere un miliardo di vita Aveva 100 milioni, quindi sembrava una cosa Fatta apposta ma in realtà poi dopo un pochettino Si è spaccato tutto e siamo tornati Nuovamente su quella che è la porta segreta Comunque come potete ben vedere ragazzi I camion che stavano trasportando Gli escavatori che si trovavano un po' più sotto Di quel lama posto a sud est Sono arrivati fino alla riva di sponde del saccheggio Alcuni escavatori sono addirittura Stati trasportati fino a qui E ovviamente poi si sono fermati Si sono messi tutti quanti in fila Quindi ragazzi cosa dite Un probabile sito di scavi anche qui Che poi c'è da dire una fila perfetta Complimenti al pilota Quindi ragazzi tutti quanti credevamo Che i prossimi scavi sarebbero stati A boschetto bisunto O meglio ex boschetto bisunto Dato che si trova sotto al lago ghiacciato Ma a quanto pare no ragazzi Potrebbe esserci un nuovo scavo Che si avvierà tra oggi e domani Molto probabilmente In questa zona quindi sulla riva di sponde Che gli escavatori arrivino fino a lì Dove ci sono i frammenti del cubo Raga che cosa ne dite E secondo voi cosa troveremo in questo quarto scavo Ma soprattutto cosa stanno cercando ragazzi A mio parere ragazzi Al 100% c'è qualcosa che si va a collegare Nuovamente al nostro Kevin Quindi il cubo di Fortnite Quindi ragazzi speriamo bene Perché se ci sarà un nuovo scavo In prossimità di sponde del saccheggio Vorrà dire che mancherà pochissimo All'inizio di quest'ultimo E quindi ragazzi Nuova maratona Seguirò tutto l'evento assieme a voi Ora per ora Picconata per picconata Detto questo ragazzi Fatemi sapere qua sotto Tra i commenti Cosa ne pensate voi Di tutta questa vicenda Se ci sarà un nuovo sito di scavi Posto qui a sponde del saccheggio Oppure si sono posizionati Così tanto per questi scavatori Giusto per una foto Del tipo guardate quanto siamo belli E poi tornano sui camion Fatte le teorie Noi ci spostiamo sullo shop giornaliero E vediamo che cosa c'è di nuovo Quest'oggi Rieccoci qui nel menu ragazzi Clicchiamo subito su negozi oggetti Ecco qui lo shop di oggi Uno shop devo dire Un po' più ristretto rispetto al solito Finalmente riusciamo a vedere Ogni singolo item Un po' meglio Si fa per dire ragazzi Perché Ultimamente sui oggetti in evidenza Quindi sulla sinistra dello shop Ci sono quasi sempre 3 set anziché 2 Comunque sulla sinistra ragazzi Sui oggetti in evidenza Abbiamo lo squadrone di supporto Skin femminile Maschile Piccone E deltaplano Dove appunto la skin femminile Quindi al nostro chirurgo da campo E' stata apportata una modifica Sulle teste invece Sugli oggetti giornalieri Abbiamo una nuova emote Da 500 V-Bucks Chiamata passi da sogno La andremo a vedere tra pochissimo Vi faccio vedere subito Il nostro chirurgo da campo Eccovelo qui ragazzi E' una skin bellissima Skin da 1500 V-Bucks Ragazzi andiamo a vedere subito Gli stili in anteprima Eccovela qui con il suo caschetto E la sua visiera Ma ragazzi Da oggi Se possete questa skin Potrete utilizzarla Anche senza caschetto Quindi vedete un pochettino Come si presenta A me personalmente piace Visto il nostro chirurgo da campo Ragazzi abbiamo anche la skin maschile Eccovela qui Più piccone che Il sound me lo ricordo molto bene Non mi è mai piaciuto Ok E deltaplano Madò Sempre sui oggetti in evidenza Ragazzi abbiamo il nostro squalotto Quanto è bella questa skin E' super divertente Soprattutto il backpack Ragazzi Tanta roba Andiamo a vedere subito Il piccone di questo set Ragazzi E' uno dei picconi più vecchi Presenti sul gioco Ascoltiamo anche il suo suono Bello 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 Ragazzi Me l'avevo quasi dimenticato Ma il deltaplano ragazzi E' altrettanto figo Guardate un po' qui Madò Deltaplano da 1500 V-Bucks Non che leggendario E' troppo ma troppo serio ragazzi Comunque ragazzi Se notate bene Sotto acquisto e compra come regalo Non c'è scritto nulla Quindi ragazzi Non va bene Devo aggiornare il support a creator Fatelo anche voi Ogni 14 giorni ragazzi Mi raccomando Non vi dimenticate Se non supportate me Ragazzi Supportate qualcun altro E' importante Quindi andiamo sullo shop principale Clicchiamo su supporto in creatore Ed inserite se volete Il mio codice JKR Martex Tutto attaccato Maiuscolo o minuscolo E' uguale raga Cliccate su accetta E grazie mille A tutti coloro che lo faranno Comunque Soffermiamoci adesso Su quelli che sono Gli oggetti giornalieri Abbiamo stella del Synth 1500 V-Bucks Breakdance 800 Passi da sogno ragazzi Andiamo a vedere lei Dai Andiamo a vedere lei Dato che è una novità Che movimento Però non lo so raga Vediamo un pochettino Voi cosa ne dite La shopperete Si o no raga Ultimamente sto shoppando Troppe ma troppe emot Raga Quando devo eseguire Una determinata emot In game Non riesco nemmeno A trovarla Perché ci sono troppe Troppe pagine Comunque vediamo Anche quella che è Stella del Synth 1500 V-Bucks Mi piace parecchio ragazzi Anche il suo backpack Non è male Bellissima questa tastiera Chitarra Attacco nuvola 1200 V-Bucks Per questo deltaplano Super figo E anche questo È un deltaplano Parecchio vecchio ragazzi Parecchio vecchio sul gioco Hypernova Una skinny da 1200 Eh Wait Whoa Non capisco raga Germoglio di sole Ma che ci fa questo set Oh Che c***o Oh mio dio No vabbè Ubriaco Oppure a sonno Oppure forte Nel stesso orario Vabbè Stavo dicendo ragazzi Hypernova Skinny da 1200 V-Bucks Uscita per la prima volta Nemmeno un mese fa Credo Fa parte appunto Del set squadra tecnica Quindi la nostra squadra Splinter Cell Ma davvero Non capisco questo bug Spero che sia un bug Solamente per me Perché se uno va ad acquistare Questa skin Magari gli danno pure Sto backpack Oh mio dio Che triggerata Continuando abbiamo Il piccone Crocevia Eccovelo qui Con dei simboli Un po' Non lo so Delete Su pinnacoli pendenti Ai 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 Piccone alquanto bello Ascoltiamo il suo suono Pesantuccio E per concludere Breakdance 800 V-Bucks Madonna raga Questa spacca Che figata Raga Lo prendiamo Passi da sogno 5000 like ragazzi Ed in live Lo vado a regalare A tre fortunati di voi Quindi Clicchiamoci Let's go Shoppato subitissimo Io ancora sono qui Non lo so Sono rimasto senza parole Per questo bug Vado a concludere Il video così Fatemi sapere anche voi Se riscontrate questo bug Oppure è solamente Un bug visivo Per la mia interfaccia Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Condividetelo con tutti I vostri amici Fateli iscrivere Ovviamente Altrimenti si perderebbero Tanti di quegli aggiornamenti Riguardanti questo gioco Noi ci becchiamo Molto ma molto presto Un salutone da Martix Seambrothers Grazie a tutti Grazie a tutti